Uno dei fattori che influiscono sull'aspetto del viso e sulla qualità della pelle è il sonno, il riposo. Sicuramente ti è capitato di andare a dormire tardi oppure di dormire male e il giorno dopo avevi le occhiaie o comunque un pessimo aspetto. E così? Beh, devi sapere che durante la notte produciamo un ormone che si chiama melatonina e che è strettamente legato all'invecchiamento, oltre che al sonno. Il massimo picco di produzione di melatonina avviene dall'una alle tre del mattino e per essere prodotta però c'è bisogno del buio totale perché anche un filo di luce può inibire il suo rilascio. Quindi andando a dormire tardi ci giochiamo la produzione di melatonina quotidiana e acceleriamo il processo di invecchiamento. E ricordati per avere una bella pelle bisogna dormire al buio totale e nelle ore giuste.